Il chiaroscuro di ispirazione caravaggesca, la predilezione per l'arte figurativa incassonata in una simbolicità moderna. Antonella Belviso, pittrice barese, inizia il suo percorso artistico dopo tanti anni, passati nel mondo della pubblicità tra Bari e Milano. Ho sempre dipinto da quando ero piccola, però facevo solamente astratto. Poi la mia strada ha preso una direzione completamente diversa. Sono stata, mi ritengo ancora una pubblicitaria, per tanti anni ho lavorato a Milano, finché un giorno mi sono trovata a tornare a Bari. Caminando ho incontrato per caso una bottega d'arte e ho deciso di cominciare a dipingere. Ho cominciato a dipingere finché la cosa mi ha proprio appassionata e ho trovato dei maestri veramente coinvolgenti. Nella bottega di Filippo Cacace Antonella Belviso affina le sue capacità, apprendendo la tecnica della grisaglia, la sovrapposizione di strati di colore al fine di ottenere la massima luce. Mi sono trovata appunto a tornare a Bari. I miei percorsi sono sempre un po' così, anche casuali. Cioè in realtà sono andata a finire a Milano per il matrimonio di una mia amica, dovevo starci un giorno, ci sono rimasta 12 anni. Per cui è così come poi mi sono trovata a essere tornata a Bari. In realtà non so esattamente il perché. Mi ci sono ritrovata. È interessante proprio questo parallelismo tra due città, Bari e Milano. Quanto è diversa la vita per un artista che nasce a Bari e che poi si ritrova in una realtà come quella di Milano? Devo dire che come artista è più che come pubblicitaria, perché pubblicitaria poi sei sempre in un'agenzia, lavori da mattina e da sera. Come artista è diverso. C'è tantissimo fermento, tantissime mostre, tantissimi stimoli. La persona, il tuo vicino di casa è un fotografo, la tua compagna in palestra è una critica d'arte. C'è veramente, chiedi di posare a qualcuno per un quadro, perché ovviamente poi sono sempre alla ricerca di modelli, persone che possano posare per la mia arte che è figurativa. e scopri che questa persona è un pittore e poi c'è una mossa. No, c'è tanta differenza. Io credo che in Puglia, infatti non parlo solo di Bari, ma in Puglia, ci siano tantissime menti, tantissimi creativi. Però lì c'è dell'altro. C'è anche l'interesse per chi non è nel settore. Secondo me è più esteso questo tipo di interesse. Qui tanti creativi, meno forse, è brutto dirlo, però forse meno mercato. Che tutto sommato è una parte anche importante se uno poi decide di farlo come mestiere. La mia produzione l'ho fatta tutta qui. Lì a Milano è stata più una questione organizzativa, appunto organizzare la mostra, trovare le persone che potessero partecipare ai quadri futuri, agli scatti fotografici, contatti. Penso che siano due posti che possano coesistere nella vita di un artista. Uno per operare e l'altro per esporre, per portare i propri anche messaggi. Perché poi cerco più o meno di dire qualcosa nelle mie opere. Ecco, a proposito, c'è un'opera in particolare a cui si sente particolarmente affezionata? Sì, è un'opera, Il vecchio al cane, che insomma ho deciso che apparterrà comunque alla mia collezione personale. Come unico quadro al momento, domani saranno forse di più. A cui tengo particolarmente perché ho vinto dei concorsi. È fra i miei primi quadri, quindi, ed è riuscito, un quadro riuscito. È fra i miei primi quadri e poi anche una piccola storia dietro. Perché inizialmente io, le mie primissime opere, più o meno due, ho chiesto a dei fotografi, questo è un fotografo sudafricano ad esempio, di poter attingere a dei loro scatti. Cosa che adesso cerco di non fare, proprio perché preferisco dare un messaggio, magari fare uno scatto a dei modelli, delle modelle, delle persone, cioè a delle persone anche in cui, degli anziani, delle persone in cui ci si possa riconoscere. E magari esprimere un'idea. Inizialmente c'è stata una ricerca anche un po' del bello. Certo, è un anziano, però è molto attraente in tutte le sue rughe. È un cane molto bello, devo dire, che lo affianca. Poi c'è una profondità del loro sguardo, insomma, si vede proprio l'animo, insomma, in questo quadro. C'è una bella storia, nel senso che ho conosciuto questo fotografo con il quale adesso sono rimasta in contatto, quindi gli ho mandato tutte le foto delle premiazioni e lui ha la mia foto in Sudafrica, lui ha uno studio dentistico, oltre ad essere un fotografo, in cui ha appunto appeso la foto mia delle premiazioni. Tra le mostre che ha allestito, ha avuto la possibilità anche di esporre per l'appunto a Milano. C'è qualche aneddoto in particolare su questa mostra? Sì, devo dire che sono stata molto contenta, perché ho visto proprio l'interesse della gente, l'ho visto anche a Bari, però devo dire che è stato curioso, ad esempio, mentre stavo allestendo la mostra, un giorno è capitato di sera, stiamo ancora finendo l'allestimento, è arrivata una mamma con un bambino piccolissimo, che avrà avuto sei anni probabilmente, e ha chiesto di entrare, perché la porta poi era chiusa, c'era il vetro, insomma, ha chiesto di entrare, scusate, ma il mio figlio è voluto scendere dal tram, perché ha visto i quadri e proprio mi ha tirato giù. E quindi è stato molto, insomma, curioso, quantomeno. Anche perché io ritengo che i bambini piccoli abbiano delle grandissime capacità e una grandissima sensibilità, per cui, insomma, mi ha fatto molto piacere. Ecco, parlando di arte moderna, come si inserisce oggi l'arte figurativa in questa fase artistica? Io ho notato, soprattutto a Milano, che c'è proprio uno spaccato tra astratto e figurativo. Ci sono delle gallerie che, quando vedono entrare un artista che fa astratto, diciamo che non ne vogliono quasi sapere e, per fortuna, c'è anche il contrario. Secondo me, in realtà, l'arte dovrebbe abbracciare un po' tutto e dovrebbe essere di ispirazione, cioè una all'altra. Io, in realtà, ho fatto, tra l'altro, il percorso è proprio inverso. Io sono partita dall'astratto e sono arrivata al figurativo, che personalmente, credo che ti dia una soddisfazione grandissima. ritengo che stia tornando il figurativo. Lo vedo anche, ad esempio, nelle accademie, nell'accademia anche di Bari, dove c'è una mia amica che mi parla sempre appunto dei suoi coetanei. È noto che comunque c'è proprio la voglia di imparare le tecniche e, secondo me, le tecniche ti aiutano molto nel figurativo. L'astratto è una cosa più distinto. Credo che a Bari, soprattutto a Bari, ci si conosca un po' tutti, per cui, attualmente, tutte le mie opere ritraggono i miei amici, quindi ho sempre pensato di chiamare la mia esposizione la mia comitiva, piuttosto che tratti e ritratti, come ho sempre fatto, perché ci sono tutti i miei amici, tutti bellissimi, tutti bellissimi e adattissimi. E ci sono pure io in un quadro che, insomma, faccio un po' fatica a guardarlo, non perché non mi piaccia, però perché sono un po' timida, in realtà. Ci sono tanti, tanti volti interessanti, però credo veramente che Bari sia piccolina, per cui anche magari persone, io inizialmente ho ritratto molto anche persone di strada e mi ero infatti innamorata di un vecchietto qui, per le strade di Bari, che però penso che conoscano tutti. Una volta ho anche cercato di trovarlo, perché mi piaceva la sua barba e se l'era tagliata, per cui, insomma, ho desistito. Ma sulla formazione dell'artista non può non aver influito anche la presenza di un papà come il professor Umberto Belviso, insigne giurista e docente di diritto commerciale. Era per mio padre, che era un professore universitario, ancora inconcepibile che una figlia prendesse una direzione diversa dalla classica, diciamo, università. Ci ho messo veramente tanti anni a convincere mio padre che si trattasse di un lavoro, perché per lui, inizialmente, non lo era. Tant'è che, anche quando mi diplomai, laureai, insomma, era una via di mezzo tra una laurea e un diploma, probabilmente, lo IED. Diciamo che mio padre non mostro un particolare interesse, poi mio padre mi ha sempre comunque aiutata, appoggiata in tutto, però, ovviamente, mantenendo le proprie idee. E quindi, solo con il tempo, insomma, diciamo che, finalmente, dopo più o meno una quindicina d'anni, ha cominciato addirittura, devo dire, a collezionare le mie brochure, tutte le mie cose, quindi, una grandissima soddisfazione, anche perché io stimavo tantissimo mio padre, proprio nel settore lavorativo, come uomo, e come tutto. E quindi, per me era una grande soddisfazione. Mio padre, purtroppo, non ha mai visto i miei quadri. Lui ha visto solo gli astratti e qualcuno, devo dire, che se li ha anche preso, perché, insomma, con mio sommo stupore, sarei anche appeso in studio. E lui, proprio una settimana, prima di morire, mi ricordo che mi guardò e mi disse, Antonella, ma non è che ora lascere la pubblicità per la pittura? E io credo che, in quell'occasione, ritenni fosse opportuno non rispondere alla domanda. Poi, invece, è andata così.